Mi chiamo Stefano e sono responsabile vendite e cantiniere dell'azienda Arricola Felciano. Essendo un'azienda arricola biologica cerchiamo di intervenire il meno possibile con trattamenti nei nostri vigneti e anticipare l'intrusione di malattie facendo buone pratiche agronomiche così da evitare di fare trattamenti esponenziali sui nostri vigneti. Per me il territorio di Panzano è tutto, è perfetto in tutto. Quando mi alzo la mattina e vedo le colline, i vigneti, mi emoziono e quindi provo tanta felicità per il mio territorio. La mia visione è l'impegno, essere costanti, essere sempre fiduciosi in quello che si fa, sempre con la grinta per mettere tutto in una bottiglia. Le persone dell'azienda, essendo un'azienda a conduzione familiare, i ruoli sono tutti fondamentali, dalla cantina al campo alla vendita. Siamo una famiglia anche con le persone esterne alla famiglia. Abbiamo sempre una determinazione, quel gruppo una grande determinazione così da far sì che i nostri prodotti siano sempre autentici.